Siamo all'interno dell'impianto sportivo Fulvio Bernardini di Roma, in particolar modo all'interno del campo di calcio a 11 dell'impianto sportivo Fulvio Bernardini. Il campo di calcio che vedete alle mie spalle e la pista d'atletica che accanto al campo di calcio corre sono stati realizzati nel 2015 dalla WISP di Roma in collaborazione con un partner di WISP che è Copneus utilizzando per le pavimentazioni gomma riciclata e dunque possiamo dire che questo campo di calcio è una trasposizione nella realtà di quel binomio tra sport nel nostro caso sport per tutti e energie rinnovabili e energie cosiddette pulite. In tutte le aree dell'impianto in realtà che gestisce la WISP Roma fin dalla sua nascita dal 1985 noi prestiamo grande attenzione alla tematica ambientale, della sostenibilità ambientale, in ogni area dell'impianto viene effettuata raccolta differenziata, gestiamo questo impianto con una grande attenzione a produrre meno plastica possibile soprattutto per quanto riguarda le attività sportive che vengono svolte e per la parte dei dei centri estivi ma possiamo dire che il fiore all'occhiello diciamo così di questo rapporto tra sport per tutti energie rinnovabili è evidentemente questo questo campo di calcio che ha dato all'intero impianto ovviamente un impatto anche visivo completamente completamente diverso. Campo di calcio che ovviamente siamo abituati a vedere nel corso del tempo pieno pieno di ragazzi, di atleti, di fruitori della pratica della pratica sportiva e che invece alle mie spalle in questo momento vedete vedete vuoto l'accesso infatti alle varie aree dell'impianto che oltre a questo campo ha anche una piscina una palestra una parete d'arrampicata uno uno skate park uno spazio per il parkour una pista di di pattinaggio è consentito soltanto agli atleti di rilevanza nazionale come purtroppo ben ben sappiamo l'emergenza sanitaria ovviamente dato un duro colpo alla gestione di questo spazio come di tanti altri spazi nel nel nostro paese e più va avanti l'emergenza più ci rendiamo conto che non possiamo gestire l'impatto di ciò che sta avvenendo da soli non può ricadere soltanto sulle spalle di chi lavora con con lo sport abbiamo bisogno di aiuto di aiuto che vada a ristorare i lavoratori sportivi colpiti in maniera durissima da quello che sta avvenendo e che vada a ristorare le associazioni sportive dilettantistiche che spazi più piccoli più grandi di questo gestiscono ormai con una difficoltà estrema al limite allo stremo delle forze da questo impianto mi sento di rilanciare questo appello sperando che arrivi ai tavoli istituzionali lo sport di base lo sport per tutti necessita di aiuto per tornare a vedere questi spazi come il campo di calcio che vede alle mie spalle di nuovo fruiti dalla dalle persone dal massimo delle persone possibili